Per stanotte sarà meglio rimanere qui. Ci staranno già cercando. Tanto lo sappiamo entrambi come andrà a finire. Che ci beccheremo tutti una pallottola nel culo. Può essere accusato di omicidio. Non ti preoccupare, ho già in mente un piano per scappare. Hanno trovato dove erloggia la signora Piras. Spettore Jacket, polizia di stato, la signorina indagata. Tra poco saremo lontani a goderci tutti quei soldi. Sergio Grimaldi e Giulia Piras erano particolarmente intimi. Qualcosa non quadra nella tua stanza, signorina Piras. Dov'era lei la mattina prima di girare? Si peperava le scene prima dell'arrivo degli attori. Poi la cicchita. Passiamo al carico. Quindi lei mi sta confermando che la vittima aveva rapporti con la ragazza. Io sono innocente, mi hanno incastrato. Figli di puttana!